Ci saranno diverse chiese che saranno aperte. Questa notte saranno aperte Santa Agnese a Piazza Navona, l'Estimate a Lago Argentina, Santa Maria in Trastevere. Trovate un momento per riflettere sulla propria vita, un momento di silenzio e anche un momento di adorazione. Sarà un'esperienza di libertà attraverso la quale riconoscere chi siamo, ma sapere anche a che cosa siamo chiamati ci darà una profonda gioia.